Non è il Consiglio federale, il problema è cosa succede negli stadi, si è trovato una specificazione nella normativa che sicuramente consentirà ancora di più di essere incisivi di un fenomeno che comunque non si basa sulle norme ma si basa soprattutto sul comportamento, su come si va allo stadio e perché.